allora sì effettivamente dovevo andare a casa ma mi sono fatto tentare da questo spettacolo come si fa andare a casa anche perché va domani dopodomani si mette a piovere stasera guardate che spettacolo che abbiamo qua allora qui siamo ad arona ci fermeremo qui per la notte abbiamo un'area camper un'area sosta gratuita che ora me la faccio vedere ai 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 se riesco ad alzarmi ecco qua un'area camper sul lago vedete com'è allora sul lago area camper gratuita comunale a rona se voi andate che cercate sui vari siti la trovate senz'altro camper online senz'altro la trova comunque perché me l'ha data lei l'indicazione e niente qui se vi capita di venire da queste parti potete fermarmi come vedete in riva al lago è una bella vista ragazzi stasera mangeremo qua per stasera abiteremo qua e domani mattina ci svegliamo con lo spettacolo e come dico sempre viva la vita ragazzi viva la vita